Il Capistrello supera il Lanciano e porta a casa i primi tre punti del campionato. Due gol nella ripresa a regalare il successo agli uomini di Giordani dopo un primo tempo equilibrato in cui il Lanciano non ha demeritato nel Capistrello e Cirelli a guidare l'attacco con Paneccasio e Di Girolamo sulla tre quarti. Il Lanciano risponde con Surugio un riferimento offensivo con Antonacci sull'esterno e Di Benedetto a comandare la regia. Il primo squillo arriva al settimo con la girata di Cirelli che termina sul fondo. Al diciannovesimo il Lanciano punge in contropiede dopo l'errore in uscita dei Rovetani. Servono i pugni di Fanti sulla conclusione di Surugio a tenere a galla i suoi. Alla mezz'ora è ancora l'ex Avezzano protagonista nel disinnescare la conclusione di Di Benedetto. Il Capistrello torna a farsi vedere al trentasettesimo con Di Girolamo che trova l'opposizione di Rossetti. Al trentottesimo rischio frittata tra Lombardo e Fanti. Sventa il pericolo, il numero uno. Due minuti più tardi sale in cattedra di Renzo che prova la conclusione da fuori. Una telefonata per Rossetti. Sui titoli di coda della prima frazione, combinazione sull'asse Cirelli di Girolamo. Il 7 va al tiro a giro che sorvola la traversa. Nella ripresa il Capistrello la sblocca al primo affondo. De Meis accende la luce e pennella per la zampata di Cirelli che gonfia la rete e fa 1-0. Cinque giri di lancetta. I Rovetani vanno vicini al raddoppio con la rasoiata di Di Girolamo. Respinta da Rossetti al diciassettesimo. Cirelli libera Fantozzi. Respinta alla garella di Rossetti con i piedi. Perludio al raddoppio che arriva al ventunesimo. Con Di Renzo che approfitta dell'incertezza di Rossetti. Blitz e pallone depositato in rete per il 2-0. Il lanciano è ancora vivo e 120 secondi più tardi sfiora il gol della bandiera. Con Di Benedetto che pennella su piazzato ma trova soltanto l'esterno della rete. Alla mezz'ora ci prova il neoentrato Fulvi che scappa sul filo del fuorigioco decisivo. Il ritorno di Rossetti al trentatresimo. Ghiotta chance per Franchi che arriva tu per tu con Rossetti. Il venti tergiversa e conclude sull'esterno della rete. Al quarantesimo ancora Fanti si supera. Su Di Benedetto nel terzo minuto di recupero. Lombardo atterra in aria Antonacci per Gervasi di Cosenza. E calcio di rigore dal dischetto. Marfì si spiazza Fanti a corcia le distanze. Ma non c'è più tempo. Primo successo per il capistrello Lanciano ancora a quota zero.